Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tocrologia Ci troviamo ancora una volta qui Nella mia bella casetta di mura, quello che sia E ci troviamo con un po' più di ingranaggi E un po' meno d'acciaio Sinceramente ragazzi, si guardate, ho utilizzato Praticamente tutto l'acciaio, è rimasto poco e niente Ovviamente Non me ne serve più di così ragazzi, lo sapete quanti engine verranno fuori? Boh, vediamo Engine, Craft 2 Industrial Steam Engine, e voilà 37, perfetto Allora, ogni 37 solo Perché mancano le piastre Ok Ok Dicevo Il mio problema è Il mio problema è Ma Ho una domanda per voi Prima del problema Quanto produce Un'industria Steam Engine? Lo sapete? No? Rispondete alla domanda Scrivetelo in chat In chat, ciao Ciao Commento e scrivetelo nei commenti Il primo che risponderà E... Non lo so Io posso scrivere E sapete qual è il problema? Ecco Non riesco a capire il primo Ricordate lo scorso episodio che vi ho chiesto Chi è che ha messo il chancroda? È il primo che risponde E dico bravo Non riesco a rispondere Comunque comunque è stato bravo Non posso... Ragazzi non posso vedere in nessun modo Chi è stato il primo a commentare Lo sapete? Perché Se metto del più recente Ad esempio Quelli messi Nello stesso orario Li metti in ordine alfabetico Invece che di orario Non lo so Io ho visto dei commenti Andare proprio a caso In disordine Non come erano stati veramente pubblicati Perché l'ho seguito i commenti E vabbè Comunque Non so che altro fare Vabbè Detto questo Io mi sono andato a una zona dei boller Perché devo montare sti cosi Però mi manca Prima una piccola cosetta Che non devo mai dimenticare Dov'è la polvere di ossidiana E dov'è il led Devo creare Dei tubi ragazzi Sempre i soliti conduit Che si fanno con Reinforced glass E rame E ricordate I classici tubi dell'acqua Quelli che uso sempre Facciamoli Allora per craftare sti tubi Sti ardent glass Ovviamente ci vuole sempre Il doppio dell'ossidiana del led Un pezzo di led Due d'ossidiana E escono due vetri Perché sti vetri Facilmente nella crafting Con il rame Ci danno Il liquid duct 56 56 dovrebbero essere più che sufficienti Almeno credo Oltre a questo ragazzi Ci serve un bel po' di rednet Quindi me la porto via Mi dovrebbe essere avanzato Qualche cavetto di rednet Che io utilizzai 5 Un po' pochini In effetti Mi servono cavetti di rednet Perché ovviamente Questi generatori ragazzi Sono attivati Da segnale redstone Su questo non ci piove mai Quindi mi serve anche Un po' di legno C'è un pezzo di legno Che mi avanza Qui dentro magari Tipo Una stick Qualcosa Devo farmi una leva Praticamente ragazzi Ti pare devo trasformare tutto il legno E farmi una leva Ah no eccolo ce l'ho Facciamo stick Cobblestone Cobblestone Vieni qui Ok facciamo un po' di leve Me ne serviranno Facciamo 16 dai 16 leve Dovrebbero bastare Spero Spero Non è detto Però dovrebbero bastare Ok le leve E in più ci serve la rednet Come ho detto La rednet ragazzi Facilissima Ormai la sappiamo fare Dove sta Dove era il cavetto? Qui Si fa con 3 pezzi di redstone E 6 di gomma Di Scusate Di plastic sheet Precisiamo Non di gomma Plastic sheet Sono diversi dalla gomma Che effettivamente Io ne avevo un po' Però non li trovo più Do cacchio stano Chi si è magnati E' il gatto Si è magnati Dove stano i plastic sheet Che io c'avevo Me ne hanno rubati Vabbè Facciamone altri E voilà Redstone Ok Ragazzi ogni volta Che apro il successo Ti giuro mi viene troppo da ridere Pensando a quello Che dice Che mi give Veramente Non riesco a non pensarci C'è troppo divertente C'è gente che non ha mai giocato a minecraft Veramente E più che altro Non ha mai giocato sul mio mod Perché poi è pure pubblico Il tutorial dovrebbe essere facile Vabbè Vediamo sto discorso Dice tutti quei diamanti In un query Metti un query Vai in singolo Mettiti in creative Piazza un query 64x64 Come ho fatto io E vedi quanta roba ne esce Poi parliamo Aspetta che metto il query plus Quando mescono 30 stacca di diamanti Ne parliamo Vabbè Dettagli Allora Stiamo dicendo Ok Abbiamo reddent Abbiamo tutto Via Vado nella zona dei bolli Ah Aspetta Sto per dimenticare la cosa più fondamentamente importantissima Tanti Le energie ragazzi Facciamo un upgrade all'energia Ci siamo Facciamolo Perché no Allora Vedete questi Arden Glass Ora io non vorrei di una cacchiata Almeno mi ricordo il craft Però non so se è così Me lo ricordo dalla vecchia 147 Questi vetri che io ho Potrei 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 Unirli con l'electrum Vediamo un po' se può ancora Sì ragazzi Il glass Che io utilizzo per fare i conduit I liquid Scusate Per i liquidi Possono essere utilizzati anche per craftare Eh dove è il silver all'argento Per craftare i tubi elettrici Sono tubi elettrici avanzati ragazzi Che non abbiamo ancora usato Che non sono quelli della bullcraft Ma quelli della thermal Vedete tramite l'electrum Quelli della thermal sono Moltissimissimamente più avanzati E anzi Adesso cominciate a pensare Ah sì C'è pure gente che pensava Che mi ero givato Il coso Ecco qua i blocchi Ma lasciamo perdere Ma fa niente Ma non è Il coso del Perché non vedono Quello che faccio Off camera No perché dovrei registrare tutto Ma la gente scrive Che palle Sempre vedete tutti questi craft La craft o craft No ma fanno resicare queste cose Perché poi Prima la gente che rosica Cioè rompe perché registro tutto E poi quello che mi dice Ti givio Registro tutto Me lo pone palle Sinceramente Un po' Che fai Fai uno Come fai Fai tutte e due Impossibile Comunque vabbè Dettagli Ragazzi ho fatto tantissimo Electrum 32 pure troppo Effettivamente non me ne serviva Così tanto Però vabbè Facciamo Uniamo l'electrum Con l'hard net glass Me ne avanza anche uno E mettiamo questi tubi Dentro il liquid trasposere E facciamo la stessa Identica cosa Che abbiamo fatto Con i test Ragazzi Però invece di riempirli Di ender per liquid E le riempiamo di redstone Effettivamente Metti i blocchi di redstone Se risparmi tempo Però Come va Ok ragazzi Lascio un po' riempire questi tubi Perché ce ne servono parecchi Ragazzi Redstone Energy Conduit Li conosciamo tutti Ah Qui Un ragazzo mi ha fatto una domanda E questa è molto interessante Come risposta Anzi Me la darete voi la risposta Altra domanda ragazzi No aspetta Allora Facciamo che Cancelliamo la domanda di prima No non la cancelliamo Bella quella Quanto produce uno Un engine di questi Un'industria steam Quanto produce E questa domanda comunque Di adesso è Quanto porta al massimo Redstone Energy Conduit Quanti mega joule per tick Perché nella versione successiva C'è scritto che porta 10.000 RF Qui quanti mega joule per tick Che porta Punto di domanda Rispondete ragazzi Perché c'è un ragazzo interessato Che vuole sapere Rispondete voi Io ovviamente lo so Però vedete quanta gente brava Che lo sa Che riesce a rispondere Ovviamente tutte le risposte Sbagliate scriverò No 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 E quelli che hanno Dovinato invece Ok Aspettiamo che riempie Tutti i secondi Ok ragazzi Ho riempito I 53 Conduit Alla fine Penso bassi Non posso anche andare Ma dai andiamo Andiamo 54 Bastano Ma c'è Allora ragazzi Per lo meno Per quello che devo fare Adesso bastano Poi Le cose più futuristiche Avanzate Ne parleremo poi Andiamo subito Alla zona del tank Go Eccomi qua ragazzi Giunto nella zona Del steam boiler E vediamo subito Dei dettagli all'interno Ok adesso vi vado subito a spiegare Ecco qui ragazzi Il nostro steam Guardate che bello Che è tutto bello Vaporoso Che si muove Tipo fluido Che è vivo Perché il vapore È intenso ragazzi Perché questo è un bollitore gigante È come una locomotiva a vapore Alla fine Fa lo stesso sistema Soltanto che la locomotiva a vapore Utilizza la potenza Della pressione Per muovere le ruote Mentre noi Utilizzeremo delle ruote Che attivano delle dynamo Queste ovviamente le chiamano Engine Però sono delle dynamo Che producono energia Ovviamente E quindi noi dobbiamo Far sì che questo vapore Vada all'interno Dei nostri motori E che producano energia Qui abbiamo un altro dettaglio Temperatura ragazzi La temperatura Sta a 554 gradi Celsius Questo arriva fino a 1000 Questo boiler Arrivato a 1000 Smette di consumare carbonella Finché rimane a 1000 ovviamente E in questo caso Dato che non ha carbonella Ragazzi sta scendendo Molto lentamente Perché un po' di carbonella Non in tanto arriva Poca ma arriva L'acqua è sempre a livelli stabili E se ci fate caso ragazzi È sempre in consumo Guardate come scende Perché ovviamente La sta consumando La consuma l'acqua ragazzi Perché per produrre il vapore L'acqua evapora Cioè la pressione Grazie all'acqua E faremo la stessa cosa di qua adesso Sapete che faccio qua Ma vorrei mettere un altro te Un altro boiler Però Sembra un po' uno spreco Perché questo accumulator lì Ho detto che lo mandavo per di qua Giusto Qui ci dovrebbe essere Il tubo dell'acqua Sì Il tubo dell'acqua Sì di là Deve fare un giro diverso Ma questi sono progetti mia Non sono importanti Comunque Cosa dobbiamo fare con questo boiler Mettiamo i motori Allora Prima di tutto Si mette un tubo a vapore Un tubo di liquido Scusate Il tubo di liquido E il nostro tubo Il nostro tubolo Si riempierà subito di vapore In un secondo Guardatelo È strapieno di vapore Basta cliccare Guardate Niente di più facile E se li mettiamo in sequenza In questo modo Guardate che succede In automatico ragazzi Si riempieranno di vapore E non si collegheranno Fra loro Molto importante Non Fate Collegare I tubi fra loro Ok Detto questo Andiamo avanti Finché non riempiamo Entrambe le pareti E vula Allora Un boiler Tiene fino A 14 motori Ci state fino a qui Non si scappa Ok Quindi quei due pezzetti Là sopra Non messi in più E non servono proprio a niente 14 motori ragazzi Non vi sbagliate Né uno di più Né uno di meno Ovviamente con 14 motori Il 14esimo Arrò un lieve calo Ma a noi non ci interessa Perché l'importante È che viaggiano tutti i 14 Quindi Cominciamo a mettere Il nostro engine In questo modo Vula Vula Ovviamente ragazzi Non avranno una direzione fissa Perché si spareranno tutti L'uno contro l'altro Perché ovviamente Non hanno una destinazione Dove mandare la corrente Quindi sarà un po' Tutto a caso Poi li ordiniamo noi Con calma Poi Cosa facciamo Mettiamo i nostri cavi energetici Perché ovviamente Devono buttare via energia E se ci fate caso Ragazzi I cavi energetici Sono Colorati di blu Perché non sono stati ancora impostati Ovviamente io non mi sono portato una wrench Sono deficiente Devo tornare a casa È meglio che mi butto da un ponte Perché se io Cazzo soggioco Perché ci sto giocando Ma le ho scritto di me Io non ho capito Ok ragazzi Tornate a destinazione Con la mia wrench Sto sclerando veramente Che Oddio questa agli usi No Pure questa agli usi Vabbè Cliccando col destro Vedete cosa succede Cambia colore Da blu diventa arancione Arancione significa ragazzi Che prende Energia Ci state fino a qui Quando è blu invece dice Che la manda Quindi il cavetto Quando è arancione Sta prendendo energia Dal motore Quindi ovviamente io adesso Girerò tutti i tubi Poi girerò tutti i motori Premendo Che cacchio Ne so come li giro Non lo so Li smonto faccio prima Vediamo un attimo Vediamo il motore Se lo smonto faccio prima In effetti Ecco fatto Ecco qua Smontandoli ragazzi Si fa molto prima Risparmiate anche la wrench Ovviamente questa wrench elettrica L'ho fatto Madonna me la sto rimpiando E si fa in questo modo In modo tale Che tutti i motori Buttino All'interno dei tubi Ovviamente Settati su arancione Non sbagliate Se no non va un cavolo Il motore di tubi Settati su arancione Lo ripeterò ogni volta Questa cosa la rifarò 3-4 volte Quindi preparatevi altri video In cui faccio questa cosa E preparatevi altri video In cui dirò Mettete gli arancioni Mettete gli arancioni C'è stato fino a qui Ok E poi basta unire ragazzi Tutti i cavi insieme Si fa una bella Un bel tubo Che unisce tutto Magari a questa altezza Così è più carino Ovviamente Andate Venite con una wrench Che non si scarichi Perché questa fa veramente schifo Un ragazzo mi ha scritto Che era friki Non mi ricordo Un ragazzo mi ha scritto Utilizza la wrench Della Bullcraft Che almeno non si consuma Io ho scritto No Il mod è basato sulla Grechtec Siamo quella della Grechtec Sì Evviva l'hard mod Sì sono d'accordo comunque Cioè Non la userò quella della Bullcraft Probabilmente Toglierò la recipe Perché sta proprio lì la difficoltà Perché essendo una wrench elettrica Ragazzi Si scarica È normale che si debba scaricare Quindi devi sempre portarti La scorta dietro di energia È giusto Devi sempre portare le batterie di riserva Quando vai a lavoro con una wrench Perché si scarica Soprattutto se lavori con tubi avanzati Come questi Comunque Una volta collegato tutto Con un tubo Unico Mando tutto dentro al tester E io qui ragazzi Vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Aspetto la risposta di questo Di quelli Quanto produce quello Quanto trasporta questo E ci vediamo nel prossimo video Dove andremo a accendere il tutto Io vi saluto Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Bella Ciao a tutti